ma fammi sapere quando ti serve fare il prezzo ma cosa significa quando vuoi mi scrivi mai una volta ma ti chiedo sempre ragazzi ogni volta a fine season raga sentite questa ogni volta a fine season mancano 24 ore piang è pieno di shit è pieno di shit è pieno di shit di non scavare il prezzo e porco 2 ti posso carriare tutta la vita ma ti sembra fare il prezzo basta farti 5 giorni va bene va bene ora però devo sparare e spara spara perché non sei multitasking 5 giorni con lo sterzo hai 2000 punti a serata ma gli altri sono che ti recuperano 10 giorni di rank vabbè dai raga buonanotte buonanotte